Buonasera, questa è la prima, oddio non so se chiamarla puntata perché mi fa quasi ridere, è la prima volta che mi metto a blaterare su una web radio, non so ancora come mi abbiano convinto, ma sono stati molto gentili. Un paio di giorni fa ho pubblicato un filmato sui Big Data, non solo sui Big Data ma anche sui Big Data. In questo quarto d'ora vi volevo parlare brevemente di quello che in realtà è stato il mio percorso, il percorso che mi ha portato alla creazione di quel filmato e che deriva in larga parte dallo snobismo con cui ho sempre trattato tutto ciò che ha a che fare con i numeri, con l'informatica, la matematica. È stato così fino ai primi anni della mia adolescenza quando ho incontrato la persona a cui in effetti è dedicato quel filmato che è Antonia Natali, che è stata Antonia Natali, è mancata qualche anno fa, è stata la mia docente di matematica e di informatica del primo anno di superiori che io ho incontrato quando avevo già deciso che della matematica non avrei voluto saperne. Questa donna che era una sorta di bomba di energia che non aveva la minima intenzione e di trattarci come stupidi perché sapeva che stupidi non eravamo e che avevamo semplicemente deciso per qualche motivo di ignorare quella materia o di non volerci trovare nessun senso e nessun significato. Nella prima lezione di matematica che ci fece ci parlò soltanto della storia della matematica che è un approccio che io non avevo mai nemmeno pensato di poter applicare alle materie scientifiche, che è una visione, una prospettiva storica. Non so perché ero piccola, non l'avevo mai fatta questa operazione e quindi il primo punto che io ho presi di matematica di tutto il mio corso di istruzione superiore fu Hisab al-Jabro al-Mukabala, che era la derivazione del termine algebra e ricordo molto poco in effetti di quella lezione, ma per me fu piuttosto rivoluzionaria come operazione perché la storia invece come materia mi affascinava molto. E Antonia Natali fece la stessa operazione anche per quanto riguarda l'informatica perché diceva voi siete nativi digitali, non era strettamente vero, ma in effetti rispetto alla sua di generazione lo era. E diceva voi quando guardate una macchina pensate che sia nata così, la vedete come una sorta di magia questa macchina sa fare delle cose che nemmeno vi spiegate. Lei però era una donna che aveva studiato matematica e informatica all'Università di Bologna negli anni 70 quando i computer erano delle stanze, quando i computer erano dei calcolatori giganteschi che succhiavano tanta di quell'energia che era una roba da fare impressione e diceva io voglio riconnettervi con tutto questo, voi non dovete guardare uno strumento per com'è adesso voi dovete avere almeno un assaggio di come è nato quello strumento. E Antonia Natali aveva fatto installare nei computer dell'aula informatica Turbo Pascal pur sapendo che era un programma altamente obsoleto anche nel 2006 quando io ho cominciato le superiori e non di meno ci insegnò a programmare in Turbo Pascal perché voleva farsi capire qual era stato l'inizio di tutto questo e le sue lezioni di Turbo Pascal sono state per me un momento molto prezioso non perché il programma servisse a qualcosa effettivamente ma proprio perché mi ha permesso di avere una profondità di campo e non di meno dopo la perdita di Antonia Natali, di questo docente per me c'è stato, sono ripiombata in certo modo in un rigetto della matematica e dell'informatica nonostante il mio più caro amico sia un informatico, pardon, un matematico e il mio più caro amico sa perfettamente che io di matematica non so un tubo una volta ha provato a spiegarmi il numero E e io l'ho visto scrivere una frazione sotto la frazione c'era un punto esclamativo e gli ho detto Neym non sono imbecilla, non hai bisogno di mettermi un punto esclamativo per spiegarmi qualcosa mi ha fermato e mi ha detto Fiora quello è un fattoriale quindi sono veramente lontana anni luce dal poter parlare di matematica o di informatica o di fisica e all'ultimo anno di superiori ho incontrato un'altra docente di matematica Daniela Cabrini e lei è un'altra di quelle persone spettacolari e di quei docenti irripetibili che o ti capitano o non li incontrerai mai e con lei nacque un bellissimo rapporto e lei mi ricordò moltissimo l'approccio di Antonia Natali nella misura in cui continuava a farci notare da bravi studenti di liceo classico che il nostro snobismo nei confronti della matematica non era una forma di riscatto era una perdita e basta che stavamo soltanto perdendo l'opportunità di fare qualcosa che era molto importante per il nostro percorso che era acquisire competenze matematiche, scientifiche in realtà e quindi ci face notare questo ci disse a me sembra molto strano quando arrivo in collegio docenti e parlo con altri docenti di materie umanistiche e loro mi dicono ah no guarda io le tue materie non so nulla e lo dicono quasi ridendo e poi invece se io mi permetto di dire che non conosco i fondamenti che non so nulla dei promessi sposi o che non so nulla dell'Iliade vengo immediatamente vista e additata come una grandissima ignorante lei non riusciva a capire questa disparità di trattamento o meglio la capiva ma diceva che era profondamente stupida e anche questo mi mise a stretto contatto con la necessità di ricalibrare un attimino il mio snobismo nei confronti delle materie scientifiche non di meno ho sempre pensato che in certa misura fosse troppo tardi e allora in un colloquio con questa docente lei mi indirizzò verso Gabriele Lolli Gabriele Lolli mi indirizzò verso i suoi libri ovviamente perché stiamo parlando di una persona che è stata che ha insegnato all'università di Torino logica per tutta la vita ha chiuso la carriera alla normale di Pisa insegnando filosofia della matematica quindi stiamo parlando di un gigante nel suo campo e Gabriele Lolli ha scritto diversi libri in chiave divulgativa matematica come narrazione di Gabriele Lolli premessa in questo libro parleremo molto di matematica e soprattutto di dimostrazioni lo scopo della riflessione qui proposta è quello di mostrare e convincere che il modo naturale di concepire una dimostrazione è costruirla come un racconto è quello di capirla, di ascoltarla come un racconto questo libro è pubblicato in una collana intitolata raccontare la matematica raccontare la matematica non vuol dire parlare dell'ambiente delle persone che si sono dedicate alla matematica creandola o insegnandola i matematici non sanno la storia di ieri e neanche la vita di coloro di cui citano i teoremi raccontare non significa neanche fare un riassunto di quello che ormai è acquisito fuori discussione e inanimato questa forse è divulgazione aia raccontare la matematica significa esporne il contenuto reale, spiegarla di fronte a un dipinto quante volte sentiamo il bisogno di un esperto che ci faccia capire perché quella che guardiamo è un'opera d'arte e dopo le spiegazioni la vediamo con altri occhi e quando si chiede a un matematico che cosa fa questi non vuole o non può rispondere elencando i risultati che ha ottenuto che non sarebbero capiti ma vorrebbe spiegare il senso di quello che fa la difficoltà sta nel fatto che anche il senso non è facilmente definibile quando lo si coglie lo si riconosce e qui cita Agostino che a proposito del tempo diceva quindi se nessuno me lo chiede lo so ma se volessi darne una spiegazione a chi me lo chiede non lo so e tuttavia il senso degli eventi sta nei racconti che li riferiscono possiamo davvero sospettare che la vera potenza degli eventi storici risieda nei loro racconti solo grazie al loro passaggio nella lingua essi continuano a verificarsi e una volta registrati anche se non altrimenti che in un pettegolezzo essi diventano curiosamente atemporali abitando quel presente catalogato che passa per il tempo di una biblioteca è un suggerimento di Schopenhauer credo che quello che ricordiamo del nostro passato dipende in larga misura da quello che abbiamo fatto dire e ridire alle nostre lingue il resto è in preda all'oblio gli storici fanno più storia degli uomini di cui scrivono e siccome noi rendiamo la nostra esperienza in universali l'esperienza diventa ripetitiva perché gli eventi non si ripetono i resoconti sì e il tempo si ripiega in confusione come un cane da seguita che ha perso il gusta senza un racconto gli eventi sono materiali inerti come ci confortano anche i critici letterari che discutono nella fantasia creativa i soli linguaggi della fisica e della chimica non permettono di parlare di ciò che più interessa nei rapporti sociali l'io la coscienza il contenuto delle informazioni anche la matematica imprigionata nei suoi simboli e nelle sue figure non dice nulla né a chi la inventa né a chi la ascolta se il suo senso non è raccontato in una storia alla domanda cosa è x o come si fa a trovare x dove x è un concetto o la soluzione di un problema un matematico non ha difficoltà a rispondere direttamente o con la definizione o con la soluzione con il procedimento per trovare x se qualcuno chiede qual è il senso di x o qual è il senso di trovare x il matematico risponde come qualunque essere umano che debba spiegare il senso di qualcosa nel momento stesso in cui apre la bocca si materializza l'avvio del racconto di una storia l'essere umano non è un animale razionale ma essenzialmente un animale affabulatore che si esprime raccontando storie come ha fatto l'homo sapiens a prevalere su altre specie di umani che nei tempi preistorici abitavano le varie regioni del mondo in coabitazione con altre specie similare di primati fiorellino impara a leggere le altre specie umane contemplavano a quanto per ora si sa l'homo neandertalensis in Europa in Asia occidentale l'homo erectus in Asia orientale l'homo demisova in Siberia scoperto nel 2010 l'homo salensis a Java in Indonesia l'homo florensis ivi nell'isola di Flores una specie di nani e in Africa l'homo rudolfensis l'homo ergaster e l'homo sapiens tutti con un cervello delle nostre dimensioni ma i neandertal per esempio più robusti dei sapiens in un primo contatto tra neandertal e sapiens quando questi circa 100.000 anni fa uscirono dall'Africa orientale furono i primi a prevalere e ricacciarli tra circa 7.000 e 30.000 anni fa tutte queste specie sono sparite ed è rimasto solo l'homo sapiens due teorie sono state proposte ancora in discussione per questo evento decisivo la teoria dell'incrocio dell'interbreeding ipotizza che le specie si sarebbero incrociate effuse miscelate merging ma contro di essa gioca il fatto che nell'incrocio di specie diverse gli ibridi sono generalmente sterili la teoria del rimpiazzamento constata invece semplicemente che le altre specie sono state spazzate via secondo un modello ben conosciuto per il successivo periodo storico in realtà i recenti esami del dna hanno mostrato che gli incroci in parte ci sono stati qualche fertile accoppiamento ha fatto sì che in europa e nel medio oriente dall'1 al 4% del nostro dna sia di provenienza da neandertal circa il 6% del dna degli aborigeni australiani e dei melanesiani è di origine denisova ma questo non significa che ci sia stato un merging le differenze non erano tali da impedire del tutto accompiamenti fertili ma sufficienti a rendere rari tali contatti come fece dunque l'homo sapiens a eliminare le altre specie secondo lo storico Yuval Harari ipotizza che una mutazione casuale abbia modificato le capacità del cervello dei sapiens per quel che riguarda il linguaggio provocando in quel periodo una rivoluzione cognitiva il linguaggio serve a trasmettere informazioni ma quelle che sono rilevanti concernono gli esseri umani stessi questi sono animali sociali la cooperazione per loro è essenziale per la sopravvivenza e per la riproduzione più importante che sapere dove sono i leoni e i bisonti è sapere chi è onesto e chi inaffidabile chi è alleato e chi dorme con chi il linguaggio si è evoluto come modo di fare chiacchiere dicerie gossiping è arrivato a una simile convinzione per altra via anche delven i branchi i clani gruppi di animali cooperanti basati sulla familiarità fisica diretta non possono superare piccole dimensioni sono quasi sconosciuti gruppi superiori ai cento individui ora l'homo sapiens ha superato questa soglia il segreto sta probabilmente nell'apparire delle storie fantastiche fiction ogni cooperazione su larga scala è radicata in miti comuni che esistono solo nell'immaginazione collettiva delle persone nessuna di queste cose credenze religiose patria leggi esiste al di fuori delle storie che le persone inventano e si raccontano a vicenda e qui ivano palmieri mio professore di storia al primo anno di liceo che nella prima interrogazione mi disse bene trovami l'organo dei diritti naturali fiorella in termini provocatori ovviamente la caratteristica veramente unica del nostro linguaggio è la capacità di trasmettere informazioni su cose che non esistono per nulla leggende miti religioni istituzioni la capacità di parlare di finzioni bruce springsteen ha detto che le storie salvano la vita per i nostri antenati arcaici vedremo le storie spiegavano la vita e le sue condizioni il fatto che li dominava non potrebbe un matematico raccontare storie per dare un senso al suo lavoro se prova a esprimere nel senso non può che iniziare una narrazione nella quale si mescolano intenzioni obiettivi progetti desideri conoscenze azioni convenzioni interpretazioni queste sono le passioni che lo guidano la matematica prodotta da un io narrante usa le forme espressive ereditate dalla tradizione culturale che sono varie non diversamente la letteratura spazia dal romanzo al racconto breve alla poesia in programmi matematici fondazionali del passato di clino di ilberto del presente di langlands richiamano i miti costitutivi e indirizzano la ricerca ogni singola dimostrazione è poi la storia di un'avventura di un viaggio in un paese sconosciuto per aprire una nuova via di collegamento aperta una strada la si migliora la prima volta magari è lunga e accidentata in seguito si scoprono le scorciatoie o viceversa la prima è breve ma i matematici preferiscono quelle che salgono sulle vette mostrando ampi paesaggi particolarmente pertinente per la matematica è il modello della fiaba le fiabe sono una guida spirituale dell'umanità insieme ai racconti fantastici e alla poesia perché sono un deposito di mondi inventati mondi in parallelo o intrecciati a quello in cui viviamo senza temere le palesi incoerenze i mondi possibili rivelano il modo in cui gli esseri umani hanno vissuto pensato sperato capito o contestato ciò che era intorno a loro come ogni fiaba strutturata in una storia inserendo in modo originale nuovi personaggi nei moduli ricorrenti del genere così ogni nuovo concetto astratto è il protagonista di una teoria diversa sostenuta dalle tecniche generali del ragionamento matematico i matematici quando se ne vengono fuori con concetti assurdamente contrari al senso comune come potrebbero essere i punti all'infinito o gli infiniti attuali non hanno alcuna esitazione a raffreddare gli entusiasmi metafisici minimizzando o smitizzando allora li chiamano fittizi o finzioni opinione comune della critica è che le strutture narrative entro cui si svolgono le fiabe esistano per conto loro come figure geometriche o idee platoniche o archetipi astratti e qui cita Calvino non solo ma le hanno precedute forse le hanno prefigurate dobbiamo crescere anche noi senza fratture dall'età delle fiabe a quella della conoscenza scientifica se si studia l'evoluzione della civiltà occidentale si riconosce che tra letteratura e matematica non sussiste solo un'analogia ma un'influenza diretta dai miti cosmologici all'epica omerica alla lirica alla tragedia greca alla retorica alla storia i greci hanno raffinato e perfezionato linguaggio e ragionamento fino a codificare la logica le tracce di questo percorso portano dritte alle dimostrazioni di Euclide dove si vedono all'opera le prime regole logiche la cui ascendenza nella poesia e nella retorica è documentabile e trasparente nell'appendice invece sono raccolti più o meno nell'ordine in cui si incontrano nel testo richiami ai concetti matematici e ai simboli che pur essendo alla portata dei lettori di questa collana potrebbero non essere familiari a tutti e qui mi ci annovero in pieno ho sforato di otto minuti ho letto da cani credo di poterla chiudere qui e non so quanto vi siate divertiti però spero che a chiunque di voi abbia snobbato come me la matematica fino a poco tempo fa possa aver lasciato qualcosa non so ancora bene come configurare questo spazio prima forse sarebbe bene imparare a parlare ma ci lavorerò vi abbraccio buona serata grazie a tutti